Una mattinata decisamente turbolenta tra Barcellona e Castro Reale. Tanta paura e apprensione per una donna di 43 anni rimasta ferita con un colpo di fucile al torace mentre si trovava all'interno della propria abitazione nel territorio di Castro Reale. Il colpo è partito mentre la donna, a quanto pare, maneggiava l'arma. Il fucile era regolarmente detenuto da un familiare. Il colpo ha raggiunto la milza e un polmone. Subito è scattato il trasporto a bordo di un'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Fogliani di Milazzo dove la 43enne ha ricevuto le prime cure necessarie. I sanitari hanno optato per un intervento chirurgico che si sta tenendo in queste ore. Secondo indiscrezioni la donna ha buone possibilità di farcela. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e quelli della stazione di Castro Reale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno cercato di ricostruire quanto accaduto stamattina. Secondo quanto riferito dagli inquirenti potrebbe essersi trattato di un tentativo di suicidio. mattinata movimentata anche a Barcellona Pozzo di Gotto dove intorno alle 9.30 un'altra donna avrebbe tentato di togliersi la vita. Anche qui è giunto il personale del 118.